Musica All'assemblea delle PD regionale la Serracchiani ha confermato che non si ricandiderà il nome delle PD uscirà dalle primarie Festa nazionale del ringraziamento ad Aquileia 1500 agricoltori per la cerimonia dell'arcivescovo di Gorizia Radaelli Allerta meteo diramato dalla protezione civile, da stanotte in arrivo freddo e pioggia, neve fino ai 500 metri Niente da fare per il Pordenone che perde la terza gara di fila con il Padova, Colucci è a rischio Musica Buonasera, buona domenica e benvenuti all'informazione di Udinese TV in apertura alla politica Come avete sentito dai titoli è arrivata la conferma di Deborah Serracchiani durante l'assemblea del suo partito L'attuale governatrice del Friuli Venezia Giulia non si ricandiderà e ha lasciato spazio all'eventualità delle primarie Per quel che riguarda il futuro candidato del PD Ma allora sentiamo le sue parole Ho dato la mia disponibilità al partito per la candidatura alle elezioni politiche Anche perché come ho spiegato in questi anni ho lavorato davvero tanto per questa Regione E credo che sia importante mantenere quella sinergia che c'è stata sempre tra Parlamento, Governo e Regione Quindi in un altro ruolo vorrò pormi al servizio della Regione Credo che molte delle iniziative che abbiamo messo in campo abbiano bisogno anche di continuità E credo che sia abbastanza naturale che il primo pensiero vada al Vicepresidente della mia Giunta regionale Però come abbiamo spiegato bene oggi e come abbiamo sempre fatto È una disponibilità la sua che ha già dato da tempo Ma il PD è un partito democratico che ha delle regole chiare Oggi approveremo anche il regolamento delle primarie E poi vedremo tra qualche giorno come andrà Abbiamo governato questa Regione con una maggioranza larga Penso ai cittadini, penso alla Slovensca Skupnost Penso anche evidentemente a Sinistra Ecologia e Libertà Che poi ha avuto evidentemente un passato e ora un futuro diverso Con quella sinistra e con tutti coloro che pensano anche che le azioni politiche concrete che abbiamo fatto Siano state positive Penso alla misura attiva di sostegno al reddito All'odontoiatria sociale, all'attenzione alla disabilità All'attenzione che abbiamo messo sui temi del lavoro Agli investimenti mirati che abbiamo fatto Ai costi della politica che abbiamo abbattuto in modo così forte Insomma credo che ci siano tutti i motivi per trovare spunti programmatici comuni Io credo francamente che il lavoro che è stato fatto Servirà a chiunque venga a governare questa Regione dopo di me Ed è se il caso del centro-destra o del Movimento 5 Stelle Dovranno fare i conti con delle riforme già avviate Mi pare che dalle loro idee si parli di qualche riadattamento Ma nessuno mi sembra che abbia iniziativa e voglia per tornare tanto indietro Lasciamo la politica e passiamo alla festa nazionale del ringraziamento Celebrazioni solenne ad Aquilei Organizzate anche dalla Coldiretti Una cerimonia appunto per ringraziare anche chi lavora nel settore primario È stata anche l'occasione per fare il punto sulle problematiche del settore agricolo Il Friuli Venezia Giulia ci regala prodotti di assoluta eccellenza E prodotti profondamente legati in modo indissolubile col territorio di provenienza È la conferma della unicità dell'agricoltura italiana Un modello fatto non solo di qualità dei prodotti, di storia, di legame col territorio Ma anche dei valori migliori in assoluto in termini di sostenibilità ambientale Su questo dobbiamo puntare Si parla tanto di agricoltura come di settore trainante per l'economia Ma di cosa ha bisogno l'agricoltura oggi? Che venga riconosciuto il valore del cibo Il cibo non è una merce qualsiasi Il cibo è figlio del lavoro e della vita degli agricoltori Dentro il cibo ci sono valori fondamentali come la sicurezza alimentare La sostenibilità ambientale, il rispetto delle persone, dei lavoratori e degli agricoltori Allora serve riconoscere agli agricoltori il giusto prezzo del cibo Questo è il messaggio che diamo ai consumatori Ogni qualvolta vanno a comprare, ogni qualvolta scelgono il prodotto italiano Stanno dando una mano al settore economico che più può dare soddisfazione al nostro paese Motivo di orgoglio per la col diretti del Friuli Venezia Giulia La presenza della festa di ringraziamento nazionale Un momento così importante fatto in Friuli Credo che ci inorgoglisca come terra e anche come organizzazione È un modo per far vedere cos'è l'agricoltura, cos'è l'agroalimentare Che è la forza di questo paese, la biodiversità Che poi in questo paese riusciamo a produrre e a sviluppare Qui oggi è la dimostrazione concreta di quello che il territorio può proporre E quindi è anche un momento di riflessione come in questo caso I problemi poi per l'agricoltura sono tanti, lo sappiamo E ogni giorno come organizzazione ci si batte Per cercare di dare una mano a un settore primario come quello agricolo Che non sta passando un momento facile E allora l'abbiamo visto nelle immagini Vicino alla Basilica è stata allestita una zona con delle casette Ognuna delle quali rappresentava una zona geografica della nostra regione Ci ha fatto un giro, Francesca Santoro Da Cividale vino e non solo perché comunque abbiamo prodotti delle biodiversità Andiamo dalla mela zeuca che arriva da pulfero Il formaggio sod la trappe quindi messo sotto le vinacee Abbiamo le strisulis che sono i ritagli di formaggio che poi si usano per fare il frico Non è proprio un prodotto agricolo ma che identifica il nostro territorio Gli strucchi e le gubane La lavanda di Gorizia, gli asparagi di Moraro La ribolla gialla, poi c'è la verza, la mitica rosa di Gorizia E poi abbiamo anche il presnitz E quello che mi suscita maggior curiosità è la rosa di Gorizia Chiedono come viene coltivata Alcuni dicono ma non ci sono i semi Insomma cerco di spiegare nel migliore dei modi ogni azienda qui presente Dalle dolomini friulane abbiamo dal succo di mele Una birra agricola, artigianale Naturalmente il prodotto principe è la pitina E quindi anche prodotti di salumi E naturalmente non mancano anche i formaggi di capra in questo caso Questo sarebbe il prodotto, la vite, il merlotto, cai, la varietà dell'uva Si può dire E noi adesso li uniamo Questo sarebbe l'innesto della barbatella Come vede è innestata Per arrivare a quel prodotto lì che è quello che è finito Confezionata, pronta per la vendita Sono i prodotti della bassa friulana Abbiamo le blave di Morteang Altrimenti abbiamo anche prodotti elaborati dalla canapa Da produzione di canapa vicino a Bicinico A Bertiolo Oppure abbiamo le patate Si chiamano coionash Si possono mangiare praticamente solo cuocendole senza sperarle Sono dei prodotti diciamo non conosciuti L'aglio di resia La fava di Sauris Poi abbiamo la scuetta franta Il formato di fran Dopo c'è il formaggio di Malga Il montaggio d'op E le rape Degnaus di Verzenis Questa è la casetta della laguna del Carso Dove sono esposti delle produzioni di miele C'è il prosciutto tipico del Carso triestino I vari tipi di olio I formaggi E ovviamente anche il vino Che è una tipicità triestina Veniamo al meteo Perché in arrivo un fronte freddo Proveniente dal nord Europa Porterà vento e pioggia E anche neve a bassa quota Altro che estate di San Martino Non sono previste giornate all'insegna del tepore Per il Friuli Venezia Giulia Anzi sarà bene rassegnarsi A sciarpe, vestiti pesanti e ombrelli Un fronte freddo proveniente dal nord Europa Arriverà nella notte sulla nostra regione Portando con sé pioggia, neve fino a bassa quota E un notevole abbassamento della colonina di Mercurio La protezione civile regionale Ha non a caso emesso un allerta meteo giallo Per l'inizio della settimana Nella notte sono quindi attese precipitazioni In genere abbondanti Con la neve che potrebbe scendere Fino ai 500 metri sulle Alpi E 700 sulle Prealpi Soffieranno inoltre 20 sostenuti da nord est Collabora che domani mattina Potrà anche superare 110 km orari Anche sulle zone più alte del Carso Domani in giornata non sono escluse brevi nevicate La protezione civile invita quindi Alla massima vigilanza del territorio In quanto l'ondata di maltempo Potrebbe portare con sé frane E locali interruzioni della viabilità Oltre alle problematiche causate Dalle forti raffiche di vento E a proposito di maltempo È in corso un intervento di ricerca Sulle prealpi Giulia e sui rivilievi Sopra Portis La chiamata è arrivata direttamente Al soccorso alpino Un gruppo di escursionisti in difficoltà Appunto il soccorso alpino Si è recato sul posto Hanno circoscritto i tecnici La zona di ricerca Grazie alle applicazioni di georeferenziazione Il maltempo e il buio però Rendono la situazione più complessa E la ricerca è ancora in corso Seguiranno aggiornamenti E noi ovviamente ve ne daremo informazione Nei prossimi spazi Dedicati proprio all'informazione di Udinese TV A Udine invece è stata presentata La nuova edizione di Passi Avanti Un ricco programma di iniziative Contro la violenza di genere Organizzata dal Comune E da una quarantina di associazioni del territorio Il Via proprio domani 13 novembre Si focalizzerà sulla figura dell'uomo maltrattante La quarta edizione di Passi Avanti Il ricco programma di iniziative Sulla violenza di genere Organizzate dal Comune di Udine E dalla corrispondente Commissione Pari Opportunità In occasione delle giornate internazionali Per l'eliminazione della violenza contro le donne E del ricordo delle persone vittime di transfobia Che cadono rispettivamente il 25 e 20 novembre Una quarantina le associazioni coinvolte E una quindicina gli appuntamenti previsti Tra il 13 del mese e il primo dicembre Conferenze, spettacoli, mostre, laboratori Anche dal taglio internazionale Perché non c'è zona al mondo Come precisato Esente da queste violenze fisiche e psicologiche Il primo appuntamento è uno scambio Italia-Israele Avremo una delegazione di una decina Di consigliere di parità israeliane Per cui avremo la possibilità di confrontarci con loro Su quali sono le loro prassi e le nostre Il Passi Avanti ha sempre avuto una caratteristica di internazionalità Quindi anche quest'anno inizia in questo modo E si concluderà anche con uno sguardo sui paesi dell'Asia In tutti gli eventi di passi avanti Metteremo quella che viene chiamata la sedia vuota C'è una sedia con un drappo rosso-rosa-rosso In ricordo di coloro che non ci sono più Perché sono state vittime di femminicidio In merito alle violenze sulle donne nel territorio Così commenta la situazione l'assessora In base all'esperienza del servizio comunale Zero Tolerance Attivo da una ventina d'anni Noi ogni anno abbiamo circa 200 casi nuovi all'anno Che si rivolgono al servizio E altre donne che invece continuano un percorso Che appunto continua dagli anni precedenti Non si registra sicuramente una riduzione dei casi Peraltro bisogna evidenziare che nel 70% dei casi Sono donne italiane che si rivolgono a questo servizio E maltrattate da uomini italiani Quindi sfatiamo che questo mito Che sia un problema degli stranieri non è così È un problema di tutti e di tutte Celebrato sul forte di Montefesta a Cavazzo Il centenario della leggendaria resistenza Del manipolo di militari del reggio esercito Che rallentarono l'avanzata austro-ungarica Dopo Caporetto permettendo così all'Italia Di riorganizzarsi per la vittoria del Piavo Una delle opere militari più importanti di inizio novecento In Friuli Venezia Giulia Il forte di Montefesta è stato celebrato sabato Per il centenario dell'epica resistenza Che vide protagonista il manipolo di eroi del reggio esercito Capitanati dal comandante Noel Winderling Hanno rallentato la marcia dell'invasore austro-germanico E hanno permesso alle truppe che erano ridossate in Carnia Di poter scendere a Tolmezzo E riparare verso il Piave Se non ci fosse stato il Montefesta A rallentare per una settimana l'invasore Queste truppe sarebbero state tutti fatti prigionieri Nella sacca di Tolmezzo Sabato l'amministrazione comunale Ha promosso in loro onore lo scoprimento Di un monumento, opera dell'artista Celiberti Che rappresenta un inno alla pace E di un pennone per innalzare il tricolore Nel luogo dove cent'anni fa Si consumò una delle pagine più ardite Ma meno note della storia della Grande Guerra Quello che è stato fatto finora sul Montefesta È stato fatto con fondi propri del Comune Ci erano state fatte tante promesse Perché penso che un sito del genere Non sia una proprietà del Comune di Cavazzo Perché insiste sul nostro territorio comunale Ma sia una proprietà e un valore In primis della Regione Ma credo di tutta l'Italia Il forte nelle intenzioni della comunità locale Vuole essere anche un punto di forza A livello turistico E per questo non mancano i progetti Alla ricerca dei necessari finanziamenti Dobbiamo sicuramente finalmente mettere in mano qualche opera edilizia Abbiamo le ex caserme che stanno crollando E quindi bisogna fare un intervento Almeno di mantenimento del sito E poi dobbiamo ripulire la fortezza E creare qualche angolo nella fortezza che ci riporti a cento anni fa Metti via quel cellulare Il titolo del nuovo libro del giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo Scritto con i due figli per parlare delle opportunità e dei rischi Del telefonino L'ha intervistato per noi Monica Nardini L'invita a non confondere la vita virtuale con quella reale A non bruciarsi davanti ai videogame A non rinunciare a libri e spettacoli Incontri e conversazioni dal vivo I suoi due figli di 17-20 anni Replicano elencando le opportunità di conoscenze e di socializzazione Offerte dagli smartphone La rete per loro è lo spazio della libertà E' un confronto tra due generazioni Quello proposto nel nuovo libro del giornalista Aldo Cazzullo Intitolato Metti via quel cellulare Incentrato proprio sui rischi e le opportunità Offerte dal telefonino Il punto d'incontro tra la visione adulta e quella dei ragazzi Potrebbe essere proprio usarlo di meno, usarlo meglio? Ma la situazione è molto migliorata da quando ho scritto il libro con i miei figli Io ho capito meglio perché per loro il cellulare è così importante Perché non è soltanto un telefono per loro È un modo per entrare in rete E per fare la vita sociale con i loro amici E loro hanno capito anche un po' le mie ragioni Il fatto che il cellulare non può diventare il nostro padrone Ma dobbiamo essere noi padroni del cellulare Se no avrebbe ragione Altan Tanto per restare in Friuli Quando dice è record Ogni cellulare possiede un italiano Qual è la cosa che più l'ha sorpresa rispetto a questo dialogo con i suoi figli? Da una parte il fatto che mi abbiano dato retta su alcuni punti Attenzione a quello che si posta su Facebook O che si mette online Un'immagine innocente può essere usata contro di voi Una sciocchetta che scrivete su un social tra dieci anni Può finire nelle mani del datore di lavoro che vi farà il colloquio di lavoro Dall'altra parte loro mi hanno insegnato che tante persone fragili trovano in rete un rifugio Trovano tante persone che pensano e sentono come loro e scoprono di non essere soli Due esempi Il ragazzino autistico che è uscito di casa per la prima volta in vita sua Per giocare a Pokémon GO e ha scoperto che esisteva la vita, che esistevano gli altri È un calciatore famoso come Montolivo che si è rotto la gamba Ha ricevuto solidarietà ma anche minacce Devi morire E ha scritto su Facebook Una carezza anche a quelli che mi hanno augurato la morte E in questo modo ha disarmato gli odiatori e gli ha sconfitti È vero che i nonni stanno diventando più bravi del papà a usare le chat Le nonne che vivono da Alba hanno imparato a usare Whatsapp Per comunicare con i nipoti che stanno a Roma con me E in questo momento i nonni e i nipoti stanno chattando come diavoli Su un gruppo che si chiama Nonne alla riscossa E adesso alla pagina sportiva ci colleghiamo con Pordenone insieme a David Zanirato Che ci racconta di questa sconfitta dei Ramarri A te David Buonasera Valentina, buonasera ai nostri telespettatori dalla sala stampa della Botteca È arrivata la terza sconfitta di fila per il Pordenone Vittoria del Padova per 2 a 1 Una formazione nero-verde che aveva ben dimostrato di presentarsi in campo nel primo tempo Aveva sferato il gol con un palo di Saez Maza Poi lo svantaggio iniziale a firma di Bellinghieri Nella ripresa la squadra di Mister Colucci è riuscita a prevenire al pareggio Subito alla pronti via grazie a Ciurria E poi subito dopo invece la gol-vittoria per il Padova A firma di Pulsetti su assist di Giampiero Pinzi Poco fa ai nostri microfoni si è presentato il presidente del Pordenone Lovisa Che ha fatto un plauso ai suoi ragazzi per la grinta dimostrata Ha recriminato appunto sugli episodi che hanno condannato i suoi alla sconfitta E ha chiarito sin da subito che Mister Colucci non è in discussione Il Pordenone ora potrà usufruire del turno di riposo obbligato per il ritiro L'esclusione della Modena dal campionato di Serie C Quindi potranno anche recuperare diversi assenti e riorganizzarsi in vista del finale del girone di andata Noi naturalmente ci ricollegheremo nel corso di studio stadio con Stefano Giovampietro Vi porteremo al microfono altri ospiti e altri protagonisti di questa sfida Che ha visto purtroppo appunto il Pordenone sconfitto per 2-1 dalla Padova A te Valentina Grazie Davide, hai fatto bene a ricordare l'appuntamento che verrà dopo di noi Quello di Stefano Giovampietro e i suoi ospiti Fra questi ci sarà anche il barone Franco Causio Perché ovviamente si parlerà inevitabilmente anche della partita che attende l'Italia domani sera Quindi il Pordenone si stringe intorno al suo tecnico nonostante la terza sconfitta consecutiva E poi in chiusura sempre per la pagina sportiva il comunicato stampa Che è arrivato da parte dell'Udinese Calcio in merito all'utilizzo di Valon Berami Durante le partite per la qualificazione mondiale L'Udinese Calcio ha preso atto della scelta della Federazione Svizzera di non aver fatto scendere in campo Nelle due partite giocate contro l'Irlanda del Nord Valon Berami L'Udinese si ritiene soddisfatta della scelta della Federazione La quale ha evidentemente compreso i rischi formali legati al non rispetto delle normative vigenti Sul tema della convocazione di giocatori Sia per quanto attiene il tema della violazione delle tempistiche di convocazione Sia relativamente al loro stato di salute L'Udinese poi sottolinea come la propria azione È stata volta a tutelare gli interessi e la salute e la forma fisica del giocatore Valon Berami Sia andata appunto a buon fine Per quanto la fattispecie non si sia concretizzata Chiederà alla FIFA di pronunciarsi sul caso Affinché si crei un concreto precedente Altre squadre non debbano trovarsi nella medesima situazione in futuro E questa era la nostra ultima notizia Noi vi ringraziamo per averci seguito Vi auguriamo un buon proseguimento di serata E vi ricordiamo ovviamente l'appuntamento fra pochissimo con Studio Stadio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti